allora un saluto a tutti voi da france prima di partire con la sigla vi do alcune comunicazioni importanti intanto siamo insomma nel periodo estivo quindi stiamo proprio siamo entrando nel mese di luglio poi nel mese di agosto quindi come sapete nel periodo di luglio e agosto continuerò assolutamente a portarvi gli approfondimenti settimanali perché non sono solo degli oroscopi ma dei momenti in cui delle finestre in cui rimaniamo in contatto in cui vi porto degli argomenti su cui ragionare però come sapete per chi segue il canale da qualche anno sa che nel periodo estivo cerco di portarvi delle finestre settimanali un po' più brevi proprio perché insomma fa molto caldo quindi è più difficile anche per me gestire questo tipo di impegno però lo faccio assolutamente con grande piacere e con voglia quindi mi trovate anche nel periodo di luglio e agosto quindi passeremo l'estate insieme anche con queste finestre temporali settimanali con questi approfondimenti prima di partire con la sigla di introdurre gli argomenti di oggi che vi anticipo abbiamo una domanda interessante che è stata fatta nello scorso approfondimento su cosa significa avere nel proprio tema di nascita l'opposizione della luna al sole quindi faremo un ragionamento su questa cosa parleremo dei vuoti di luna di questa settimana che sono anche un po' particolari perché c'è un vuoto di luna molto lungo quindi abbiamo molte giornate in cui ci caratterizzerà una luna vuota di corso e poi entreremo insomma nell'approfondimento sui 12 segni un po' più sintetico proprio per rendere un po' più veloce questo approfondimento nel periodo estivo dove però vi do delle indicazioni sui transiti sugli aspetti esatti della settimana su come questi aspetti che tipo di tematica settimanale può rappresentare per ognuno di voi per il segno per i 12 segni zodiacali ma prima di dirvi questo vi ricordo che nel periodo estivo io continuo comunque a svolgere le consulenze astrologiche e tarologiche ogni tanto torno a parlarvi della consulenza lo faccio raramente e nel video intanto nella descrizione di questo video trovate intanto i link di contatto che vi permettono di entrare appunto in contatto con me per lo svolgimento della consulenza professionale astrologica e tarologica ci tengo a ricordare che io non ricevo in privato quindi non faccio consulenze private svolgo la consulenza esclusivamente su Kang Italia che è il luogo in cui lavoro a livello di consulenza astrologica e tarologica avete questi due link che sono diversi uno per la consulenza telefonica e uno per la consulenza su videoclip o scritta vi vorrei parlare di questi due consulti della tipologia di questi due consulti la consulenza telefonica è una consulenza classica cioè in cui ci sentiamo a livello telefonico e ovviamente nella consulenza telefonica consiglio sempre di partire da una domanda precisa quindi è importante avere le idee chiare quindi è inutile svolgere una consulenza se non si sa cosa chiedere perderemmo solamente il nostro tempo quindi è inutile fate la consulenza se vi serve altrimenti no nella consulenza telefonica dovete avere una domanda che è chiara, che per voi è importante lo scopo della consulenza è ragionare intanto non ricevere una sentenza, un giudizio o un decreto diciamo inappellabile avere un ragionamento attraverso un linguaggio che è ovviamente simbolico, figurativo ma anche astronomico quindi attraverso il linguaggio del cielo se usiamo l'astrologia o attraverso dei linguaggi simbolici per esempio attraverso la via dei tarocchi cerchiamo di ragionare sulla questione che proponete insieme riflettendo su quello che emerge in un momento di confronto e questa è la, diciamo, consulenza telefonica classica con il link che trovate nella descrizione del video voi potete cliccare sul link e vi permette intanto di iscrivervi sul sito di Kang Italia il sito di Kang Italia voglio dirvelo in modo chiaro è un sito assolutamente sicuro professionale abbiamo uno staff che è incredibile che assiste sia noi master che voi clienti abbiamo dei servizi che sono professionali che sono seri, che sono rigorosi quindi vi potete affidare assolutamente a questo portale tranquilli questo è un portale che mette in comunicazione per esempio nella consulenza telefonica il mio telefono con il vostro senza comporre alcun numero questa è la magia della tecnologia quindi non c'è assolutamente alcuna spesa telefonica quindi non è un addebito sulla bolletta del cellulare o del telefono di casa non vi è alcun addebito il pagamento nella consulenza che ovviamente va pagata perché è lavoro quindi nella consulenza professionale io svolgo la consulenza con un pagamento che viene rappresentato da un credito telefonico che voi potete acquistare attraverso per esempio Paypal quindi potete fare una ricarica sul sito attraverso Paypal attraverso una carta di credito una post pay oppure c'è il sistema che io trovo molto buono delle pay safe card che sono delle carte che hanno un valore economico che si acquistano per esempio al tabaccaio si può acquistare questa carta che ha un valore economico di 20 euro quello che sia con quel codice che la carta vi dà può essere inserito quel codice sul sito di Kang Italia e vi dà quel codice vi dà il credito che avete acquistato con quella Pay safe card e quindi avrete un credito sul sito che potete poi utilizzare completamente in parte solo con me o anche con tutti gli altri miei colleghi che trovate su Kang Italia perché vi ricordo Kang Italia insomma raccoglie una serie di professionisti proprio per lo svolgimento delle consulenze nella sezione della astrologia della cartomanzia trovate veramente tante persone valide sono pronte ad ascoltarvi a confrontarvi con voi attraverso ovviamente le competenze poi di ogni master di ogni consulente quindi c'è chi ha una specializzazione tipo me in astrologia e tarologia chi in altre competenze chi ci sono anche su Kang Italia altri validissimi astrologi e tarologi insomma trovate molte figure professionali per lo svolgimento di una consulenza in piena sicurezza quindi il link per la consulenza telefonica permette lo svolgimento della consulenza telefonica quindi con un momento dove parliamo e dove ci confrontiamo ora nella consulenza telefonica è importante capire una cosa che bisogna partire da una domanda chiara perché l'astrologia quanto la tarologia non sono sfere di cristallo dove vengo folgorato da una visione e quindi basta anche dire fammi dimmi qualche cosa in generale ecco quando mi chiedono questa cosa mi vengono sempre i brividi cioè non è che abbiamo la sfera di cristallo bisogna partire da una domanda in base alla domanda si va ad utilizzare una serie di strumenti per esempio a livello astrologico io solitamente nella consulenza telefonica la prima cosa che faccio è aprire il vostro grafico di nascita se conoscete l'orario della vostra nascita e già il tema di nascita ci dà molte informazioni sul vostro temperamento sul vostro essere quindi sul modo anche di vivere certi argomenti della vita quindi se mi state chiedendo una questione professionale o affettiva vado a vedere i significatori naturali e accidentali dell'amore o del lavoro nel vostro grafico di nascita vado a vedere il temperamento cioè le temperature di questi significatori e già possiamo avere una inclinazione sul vostro essere sul vostro modo di essere in certi ambiti della vita mettendo poi questi significatori in relazione per esempio ai transiti dinamici del cielo eventualmente all'osservazione di una rivoluzione solare lunare all'osservazione dell'ascendente di professione annua insomma io poi uso anche la tecnica della progressione altre tecniche insomma una serie di tecniche che unite poi anche alla tarologia io uso anche la tarologia ci danno una serie di letture di narrazioni ovviamente l'astrologia ci dà già degli esiti la cartomanzia e la tarologia con le loro immagini le loro allegorie possono aiutarci aiutare me ma anche voi in un discorso a tirare fuori certe cose a ragionare su certe cose quindi attenzione la consulenza non è un momento di verità è un momento di lettura di un certo fenomeno di una certa attualità si deve partire sempre dal comprendere cosa si è nel momento in cui viene posta la domanda e questi simboli questi linguaggi la dinamica del cielo ci può in qualche modo far ragionare su certe questioni della nostra vita con un altro tipo di paradigma più creativo diciamolo anche più creativo in cui ragionare il mio scopo è in qualche modo ragionare con voi su certe questioni della nostra vita insieme a voi anche attraverso i linguaggi appunto del cielo e della via dei tarocchi per quanto riguarda invece la consulenza su videoclip o scritta c'è un altro link lì vi permette sempre di accedere sul portale di Kang Italia quindi vi potete iscrivere anche con quel link e quello vi permette di entrare nei cosiddetti di job cioè delle consulenze che sono diciamo così prenotate attraverso una richiesta ora la consulenza su videoclip o scritta devo dire è stata apprezzata da molti clienti che mi seguono che hanno provato anche questa consulenza l'hanno trovata molto interessante perché giustamente in questo tipo di consulenza che è molto più impegnativa ve lo assicuro più di quella telefonica voi proponete una questione senza telefono mi mandate tramite il sito di Kang e la richiesta della consulenza una email in pratica scritta in cui scrivete quello che volete approfondire attraverso un'indagine che è astrologica e tarologica punto poi tocca a me quindi non c'è in quel caso un confronto tra me e voi io sono solo con la vostra nascita con il vostro grafico e quindi che cosa accade in questo caso ho molto più tempo per studiare il vostro grafico di nascita per in qualche modo elaborare il vostro grafico di nascita in modo più con più tempo diciamo quindi ho più tempo per ragionare su alcuni vostri aspetti per guardare varie cose del vostro grafico di nascita attraverso diverse tecniche astrologiche e io poi vi porto quello che è emerso e questa cosa permette anche di affrontare di fare anzi un percorso insieme che è astrologico quindi se io vi verrò a dire certe cose vi dirò perché vi dico quelle cose spiegandovole proprio attraverso l'osservazione del vostro grafico di nascita quindi riceverete per esempio nella richiesta della consulenza videoclip riceverete proprio un videoclip in cui vedrete me e i vostri grafici e che vi spiego i vostri grafici come arriviamo a certi tipi di interpretazione quindi la consulenza su videoclip o anche scritta è una consulenza diversa perché ho più giorni di tempo per riflettere sulla questione che mi avete posto e utilizzare diverse tecniche che poi io sintetizzo in un videoclip o in un documento scritto e voi avrete questo documento scritto o videoclip che potrete leggere o ascoltare e vedere e poi non finisce lì terminato avrete modo di interagire con me per via epistolare quindi con dei confronti per iscritto dove mi darete le vostre impressioni dove mi darete la vostra opinione e dove quindi ci sarà un confronto finale ed eventualmente andrò anche a rispondere a delle cose che eventualmente non sono state chiare quindi è un modo anche per chiarire eventuali passaggi ecco oggi ho perso un po' di tempo a inizio di questo video per spiegarvi non lo faccio spesso quindi concedetemi questo momento per spiegarvi la consulenza con me che avviene attraverso il sito di Kang Italia che io preferisco chiamare la famiglia Kang perché siamo tutti una famiglia sia i consulenti che sono su Kang quindi i master sia lo staff ma sia anche i clienti quindi è una vera e propria famiglia che c'è su Kang Italia una piattaforma assoluta nel modo più assoluto seria professionale dove trovate dei professionisti poi io vi porto qui la mia consulenza ma nessuno vi vieta di consultare anche altri professionisti altri master sono tutti bravissimi tutti competenti professionali per svolgere anche degli approfondimenti o per avere perché no altri punti di vista anche con altri master che utilizzano per esempio altre tecniche anche quindi è una famiglia assolutamente valida e che vale la pena insomma aderire a questa famiglia ovviamente iscrivendovi non è che avrete poi l'obbligo di svolgere delle consulenze ricorrenti io lo dico sempre fatele quando c'è bisogno ma fatele anche per mantenere se c'è bisogno un discorso per andare avanti su certi discorsi per affrontarlo anche per affrontarli anche con una certa tempistica però in quel modo voi avrete la possibilità di controllarmi in senso proprio pratico quando sono libero quando sono disponibile se entrate in questi link poi vedrete insomma tutti i feedback che ho ricevuto tutti i commenti dei clienti che sono commenti veri non sono finti cioè di gente che realmente ha svolto la consulenza che ha lasciato la sua esperienza attraverso un feedback mi trovate ripeto anche nei periodi estivi sarò meno presente del solido perché ripeto io il caldo non lo tollero proprio cioè io preferisco il clima che io preferisco è quello della primavera dell'autunno e dell'inverno l'estate proprio il caldo ho difficoltà a gestirlo proprio psicologicamente quindi luglio agosto rallento un po' ma continuerò ad esserci sia sul canale youtube sia su cang italia ok perdonatemi per questa filippica per questa introduzione lunga però insomma ogni tanto sapete che devo anche promuovere le mie attività professionali quindi ora partiamo con l'oroscopo della settimana e iniziamo ovviamente dalla sigla introduttiva quindi ci vediamo subito dopo la sigla introduttiva a tra poco a tra poco Bene, allora ci troviamo quindi nell'approfondimento della settimana, quello che va dal 4 luglio al 10 luglio, quindi siamo entrati proprio nel mese di luglio, quindi siamo nella piena fase estiva, il sole è in cancro, quindi siamo nella prima parte della stagione estiva, il sole in leone invece andrà a sancire il cuore dell'estate e poi il sole in vergine andrà a sancire la parte finale dell'estate. Allora, partiamo con intanto una domanda che è arrivata nel canale YouTube. Buonasera, solo una curiosità, chi ha la luna nel segno opposto crea problemi e se sì di che genere, tipo pesce con la luna nei gemelli? Grazie mille. Allora, la domanda non era molto chiara, però si capisce cosa l'utente ha voluto chiedere. Allora, che cosa ci chiede l'utente? Cioè quello che ci chiede è che significato ha la relazione della luna con il sole quando questa relazione è, tra virgolette, negativa. Per esempio qui viene detto cosa accade nel segno opposto, quindi evoca la luna opposta al sole, poi evoca pesce gemelli, invece i pesci gemelli hanno una luna, che ne so, in pesci e un sole in gemelli hanno invece una disposizione di quadratura. Ora, in generale va detto questo, che la posizione delle relazioni luna-sole sono relazioni estremamente importanti nel linguaggio astrologico, perché sono i due luminari. Quindi la relazione tra il sole e la luna è estremamente importante, perché ci dà, come a livello di informazione, anche temperamentale, la qualità degli umori, specialmente della componente umida e fredda e della componente calda e secca. Noi siamo, diciamo, degli organismi che nel linguaggio astrologico e anche nella visione, diciamo così, ipocratica e aristotelica, siamo composti da un miscuglio di elementi che chiamiamo fuoco, terra, acquaria. Quindi in noi c'è questo miscuglio dei quattro elementi che possiamo percepire anche nel nostro corpo con le varie funzioni degli apparati. Quindi abbiamo alcune parti del nostro corpo che sono molto più fredde di altre, alcune parti del nostro corpo che tendono alla secchezza, altre invece alla presenza di molta umidità, alcune parti del nostro corpo che sono calde. E queste rievocano appunto i quattro elementi. Però vi ho già, diciamo, vi ho già annunciato i quattro principi, che sono quelli che vengono prima degli elementi. Infatti gli elementi sono visti come un miscuglio di principi primi. Cioè, prima degli elementi, prima del fuoco, della terra, dell'aria, dell'acqua, abbiamo i quattro principi, che sono il caldo, il freddo, secco e l'umido. Nel fuoco troviamo il caldo e il secco, nella terra troviamo il freddo e il secco, nell'acqua il freddo e l'umido, nell'aria troviamo il caldo e l'umido. Anche se in realtà molti autori antichi ci indicano come in realtà negli elementi non c'è l'assolutezza dei principi. Quindi nel fuoco non c'è solo calore e secchezza. Vi è anche un principio di umidità e un principio di freddezza. Ippocrate proprio, in alcuni suoi testi, dice che il fuoco è anche umido. E questo viene ripreso da alcuni autori più, diciamo, dedicati più alla letteratura astrologica, che ci indicano che negli elementi ci sono delle proporzioni di caratteri primi. Sicuramente nel fuoco i caratteri più evidenti, più marcati, sono il caldo e il secco, ma vi è anche una percentuale, diciamo così, di freddo e umido. Così per tutti gli altri elementi. Nella Terra non vi è solo freddezza e secchezza, vi è anche un po' di calore e un po' di umidità. E così via dicendo per tutti gli altri elementi. I principi primi sono i principi che vengono prima degli elementi, alla base degli equilibri cosiddetti umorali e temperamentali. Anche l'astrologia ha dei metodi che ci permettono di comprendere il cosiddetto temperamento prevalente. Per esempio vi porto il mio caso, del mio tema di nascita, che con una serie di computi, di calcoli, mi indica che il mio temperamento prevalente è il sanguigno. Quindi il temperamento, diciamo, sanguigno è un temperamento legato ai caratteri del caldo e dell'umido, quindi viene associato anche ai pianeti Giove e Venere. Questo non significa che sono solamente sanguigno, perché la stessa dottrina ipocratica e aristotelica ci dice che i temperamenti sono equilibrati dentro di noi e si esprimono anche in base alla fase biologica della nostra vita. Proprio in questo canale su The Sun Astrology vi riporterò un link a questa descrizione. Vi ho parlato in un approfondimento video delle fasi biologiche della nostra vita. Appena siamo nati, quando siamo ragazzini, adolescenti, quando siamo giovani adulti, quando siamo maturi, quando siamo vecchi. Quindi vi ho riportato le fasi biologiche della vita e come queste fasi biologiche siano connesse ai quattro temperamenti che si presentano in modo alternato in diverse fasi della nostra vita. Tutto questo discorso, per dire cosa? Che la Luna e il Sole vanno a governare i quattro principi fondamentali. Quindi sono, in un certo senso, i due pianeti, o meglio andrebbero chiamati luminari, perché sono diversi dai cinque pianeti erranti, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, la Luna e il Sole hanno un ruolo, diciamo così, particolare, quasi a sé, sono infatti detti luminari. Questi due luminari presiedono, diciamo, hanno diritto, o comunque reggenza, ecco, sui quattro caratteri principali, sui quattro umori, sui principi primi del nostro essere. Quindi Luna e Sole governano i quattro principi. Freddo, caldo, umido, secco. Quindi le interazioni Luna-Sole nel nostro tema sono estremamente importanti. Ora, definire che cosa significa una Luna opposta al Sole dipende, dipende intanto da una cosa, per esempio se l'opposizione Luna-Sole prevede la Luna sopra l'orizzonte o il Sole sopra l'orizzonte. Sono due casi estremamente diversi. Quindi dipende, per esempio nell'opposizione Luna-Sole, dipende se il grafico è diurno o notturno, quindi come sono posti, disposti questi luminari. Quindi non si può dare una, diciamo, una sintesi, dire significa questo punto, dipende, quindi da come poi questa opposizione Luna-Sole è, diciamo, presentata all'interno della nostra nascita. Tuttavia le opposizioni Luna-Sole, le quadrature Luna-Sole, le congiunzioni Luna-Sole sono viste in genere dalla letteratura astrologica come connessioni tra i luminari di tipo tensivo, quindi sono delle tensioni dove i caratteri, diciamo così, i temperamenti in gioco possono essere tesi. Quindi le congiunzioni Sole-Luna, le quadrature Sole-Luna, le opposizioni Luna-Sole possono sovente parlarci o portarci, diciamo così, delle tematiche tensive, che non vuol dire avere una vita sfortunata, assolutamente no, però sicuramente mettono in luce dei temperamenti, cioè possono in qualche modo indicare l'emersione nel nativo di certi temperamenti, di certe inclinazioni, che possono essere per certe questioni della vita vissute in modo tensivo. Per esempio, qui vi porto che cosa dice firmico materno sulla Luna opposta al Sole. Allora, firmicus che cosa dice? Volgono a vari mutamenti la vita, la condizione e la dignità dell'uomo. Cioè la prima cosa che firmico dice è che quando i luminari sono in tensione, in questo caso in un aspetto di opposizione, chiamato come aspetto dalla letteratura astrologica come aspetto di inimicizia, vuol dire che la vita è mutevole. Quindi cosa vuol dire? I temperamenti sono mutevoli, i caratteri sono mutevoli, i temperamenti, il modo di essere, le inclinazioni possono essere mutevoli. Quindi nell'opposizione possiamo avere della Luna Sole come narrazione per farmi capire gli sbalzi di umore, passare da un estremo all'altro, per esempio. Altra cosa che firmico dice è che questa opposizione vuol dire cosa? Il procacciare delle ricchezze. Ma nello stesso tempo il peso della povertà. E poi dice ancora firmico, ma nuovamente la liberazione dall'indigenza con il concorso di altre ricchezze. Cioè rievoca questo mutamento. Cioè nell'opposizione Luna Sole, firmico dice possiamo avere la capacità di trovare ricchezze, ma nello stesso tempo di perdere, per poi ritrovarle. Quindi dà questo senso di alternanza, di in qualche modo un equilibrio, in apparenza, precario, comunque altalenante. Poi dice firmico, se opposti essendo il Sole e la Luna, cioè se la Luna e il Sole sono opposti, e Marte e Saturno tengono con minaccioso raggio un luogo intermedio ai luminari, cioè mettiamo il caso abbiamo l'Una Sole opposti e abbiamo anche un aspetto di quadratura da parte di Saturno o di Marte, allora dice firmico, fra i genitori vi è un eterno diverbio e la scissura di una perpetua discordia. Allora qui, come vedete, firmico rievoca che cosa? Rievoca intanto i concetti dei genitori, della genitorialità. Cioè ci parla della madre e padre, dei genitori, della eredità familiare, perché? Perché la Luna e il Sole sono due significatori anche dei genitori. La Luna legata alla figura della madre insieme a Venere e il Sole insieme a Saturno alla figura del padre. Quindi la Luna e il Sole nel nostro tema vengono anche studiati non solo per lo studio dei temperamenti, ma per esempio anche per lo studio delle relazioni tra il nativo e i genitori o diciamo le cose anche ereditate dai nostri genitori. Quindi la Luna e il Sole hanno due significati, hanno molti, anzi significati accidentali e naturali. Dipende poi dalla nostra nascita. Ma in questo caso firmico sottolinea proprio il concetto dei genitori, perché sovente proprio nella letteratura astrologica si riporta che la congiunzione Luna-Sole, la quadratura Luna-Sole e l'opposizione Luna-Sole disposte in un certo modo e specialmente se sono presenti anche delle relazioni ai malefici Saturno-Marte possono significare qualche cosa di tensivo legato ai significati naturali della Luna e Sole che sono tra le tante cose anche quello dei genitori. Quindi potremmo avere delle tensioni con le figure genitoriali oppure essere come figli testimoni di tensione in ambito familiare o vedere il patrimonio del proprio padre instabile o essere perso o vedere il patrimonio della propria madre essere instabile o perso oppure possono esserci delle tematiche all'interno della famiglia particolari. Che tipo di tematiche non posso dirlo su due piedi quindi dipende da come poi questi aspetti vengono visti all'interno della carta di nascita. Quindi queste sono le indicazioni generali. Le tensioni Luna-Sole specialmente quando abbiamo quando nasciamo in pratica con un novilunio o con un plenilunio possono essere marcate intensive. Poi dipende perché ci sono anche delle condizioni dove per esempio un plenilunio messo in una maniera non così lesiva non è detto che produca il male quindi dipende da tante cose però in linea generale la tensione tra i luminari mette in luce una tensione nel temperamento quindi nel tipo di carattere nell'inclinazione nel modo insomma dell'essere di come ci esprimiamo in vari modi fisicamente intellettualmente a livello anche impulsivo di pulsioni di passione possono anche in qualche modo tradurre una tensione più legata ad altri contesti per esempio ai contesti familiari genitoriali di quello che ereditiamo diciamo dai nostri genitori oppure tensioni legate ai significati cioè a ciò che la luna e il sole governa all'interno della nostra carta di nascita quindi se ho che ne so un'opposizione luna sole che ne so in prima settima casa possono tradurre una tensione proprio in quei settori nella casa uno e sette nella relazione con l'altro nel matrimonio nella relazione affettiva ma anche nel temperamento nel modo di pormi nel modo di far emergere alcune cose di me quindi dipende sempre dalla disposizione insomma della opposizione o della quadratura dei luminari o della congiunzione anche che è molto importante quindi la domanda è sicuramente interessante non è assolutamente banale perché gli aspetti dei luminari sono importantissimi ma sicuramente vanno poi congetturati caso per caso in base quindi alle situazioni di ognuno di voi e andiamo avanti intanto con i transiti della settimana quindi vediamo che intanto durante questa settimana vi annuncio che c'è l'entrata nel segno del cancro di mercurio e l'entrata nel segno del toro di marte quindi abbiamo insomma un po' di cambiamenti nel cielo dinamico in questa settimana si formano due aspetti esatti abbiamo l'aspetto esatto di marte e mercurio di mercurio marte in se stile e abbiamo l'aspetto esatto di mercurio giove di quadratura il sole transita nel segno del cancro siamo nella prima parte della stagione estiva la luna transita nei segni della vergine della bilancia e dello scorpione vediamo brevemente i vuoti di luna della settimana vi dicevo c'è un vuoto di luna particolare quello che ha inizio il 4 luglio visto dai cieli di roma alle ore 17 e 37 che dura fino pensate al 6 luglio 2022 alla mezzanotte e 24 cioè abbiamo una lunga un lungo stato una lunga condizione di vuoto di luna che diciamo ha inizio dal tredicesimo grado della vergine quando quindi la luna è inizio settimana è nella vergine quindi è una luna molto insidiosa molto particolare una luna quasi che ci rende disarmati fiacchi estremamente in difficoltà fisica estremamente debilitati privi di energia quindi queste giornate del 4 5 6 luglio sono giornate probabilmente che anche a livello collettivo avremo delle giornate molto fiacche molto difficili molto dove non ci sentiamo in qualche modo così supportati perché abbiamo una luna che si applica al nulla a partire dal tredicesimo grado della vergine quindi insomma abbiamo un bel vuoto di luna molto lungo che dura molte giornate altro vuoto di luna lo abbiamo il 7 luglio alle 21 e 17 fino all'8 luglio alle 7 del mattino e 14 minuti altro vuoto lo abbiamo a fine settimana 10 luglio all'una e 04 della notte in pratica fino al 10 luglio a qualche cosa durante questi vuoti di luna quindi quando c'è un vuoto di luna si sconsiglia nella astrologia elettiva di dare inizio a certe attività a certi progetti non perché vanno male non è detto che vadano male ma perché non c'è la forza necessaria della luna per supportare i progetti e la luna è significatrice del corso degli eventi quindi se devo iniziare un progetto devo vedere come prima cosa come sta messa la luna perché devo avere un suo bel sostegno perché significa il corso degli eventi il buon esito degli eventi quindi una luna vuota di corso cioè che non ha aspetti una luna void indica proprio a livello simbolico e astronomico una luna che non si applica a niente quindi che in un certo senso è debole quindi non mi promette niente diciamo così di promettente di efficace rispetto all'iniziativa che devo iniziare quindi i vuoti di luna nella sorgia elettiva si riferiscono in particolare sui nuovi inizi non sui progetti in corso bene detto questo entriamo ora nell'approfondimento dei dodici segni quindi questo ve lo faccio come vi ho detto anche prima velocemente proprio perché ripeto fa caldo quindi è un periodo un po' così difficile per me perché con il caldo non riesco insomma a svolgere troppo questi approfondimenti proprio perché per me è una sofferenza insomma quindi ho cercato di sintetizzare intanto mettendovi in rilievo la luna della settimana anzi ve la ve la dico abbiamo la luna in vergine il 4 e il 5 luglio poi una luna in bilancia il 6 il 7 e l'8 e poi fine settimana una luna in scorpione il 9 e il 10 di luglio quindi andiamo a vedere in grandi linee insomma quello che possiamo prospettare per i 12 segni allora partiamo dal segno ariete la luna della settimana attiva in particolare il settore delle relazioni con gli altri quindi prestiamo attenzione a mercurio in cancro che in questo momento si relaziona a marte e poi si relaziona anche a giove proponendo per il vostro segno è una settimana legata all'amministrazione alla gestione alla coordinazione dei progetti in corso quindi si relazioni ma legate a quelle finalizzate a questioni diciamo amministrative ed economiche quindi è una settimana impegnativa che sarà alleggerita sicuramente dalla luna di fine settimana perché è una luna nella casa di marte vostro governatore che solleverà il segno con un weekend all'insegna della leggerezza e della trasgressione per quanto riguarda invece il segno del toro allora la luna attiva per voi il settore anche qui delle relazioni in particolare mercurio in aspetto a marte solleva le questioni affettive che diventano quindi prioritarie almeno in questa finestra temporale sarete aperti alle comunicazioni con il partner con un corteggiatore c'è la necessità di sentirsi coccolati apprezzati dall'altro a fine settimana poi abbiamo una luna in opposizione perché è una luna in scorpione può generare questa luna delle incomprensioni dei momenti di tensione sulla gestione del weekend mossi forse oso dire da una vostra eccessiva richiesta e il partner potrebbe non essere in grado in qualche modo di soddisfare totalmente le vostre richieste quindi attenzione proprio all'impellenza che potreste sentire nel fare richieste nel fine settimana che potrebbe essere un'impellenza non da tutti accolta diciamo così positivamente segno gemelli il mio segno cari gemelli la luna del 4 e 5 luglio intanto attiva il settore della famiglia delle questioni domestiche economiche private quindi ci troviamo in una settimana dove mercurio sarà anche in quadratura a giove sarete quindi in una settimana secondo me concentrati nelle attività di casa nella gestione delle cose domestiche diciamo familiare familiari legate quindi alla parentela ai figli insomma in base alle condizioni di ognuno di voi quindi sarà necessario anche valutare in questa settimana i bilanci economici di questo periodo perché insomma all'inizio della settimana vi orienta verso questo tipo di analisi quindi sarete molto cognitivi molto razionali il vostro è un segno estremamente razionale che elabora molto e c'è questo bisogno di soffermarsi un po' di più sulle vostre cose quelle legate alla vostra casa o comunque alle cose più private abbiamo poi a metà settimana però questa luna che mi piace molto 6,7,8 luna in bilancia quindi luna in trigono quindi c'è un bel appoggio della luna che può sicuramente aiutare a riprendere anche le vostre attività più ludiche ma anche a saper organizzare perché è una luna in bilancia quindi se ci sono problemi in casa nella gestione dell'economia o di certe pratiche è una luna che vi aiuta molto è una luna che vi aiuta anche a riprendere anche un po' a mano alle attività diciamo più ludiche quindi della relazione con gli altri della socialità con gli altri allora amici del cancro luna del 6,7,8 luglio suggerisce una fase della vita quotidiana più interiorizzata quindi sentite proprio la necessità di riflettere su questioni per esempio lavorative più intime più personali Mercuro Giove in quadratura indicano frustrazione sui risultati che state ottenendo proprio nel campo professionale in questo periodo cioè per la settimana in corso mentre il sestile Mercurio-Marte vi aiuta insieme alla luna in trigono del weekend una bella luna a stabilire certe sicurezze in amore insomma se da una parte il cielo suggerisce stress nel lavoro dall'altra parte però è proprio nel sentimento nella relazione affettiva con una persona a voi cara che potrete in questa situazione diciamo sì ritrovare la giusta energia per andare avanti quindi dal lavoro si stress cose pesanti però dalle questioni affettive può arrivare qualche soddisfazione qualche cosa che vi alleggerisce e che vi aiuta ad andare avanti nonostante diciamo così una settimana un po' tensiva su altri ambiti quelli appunto più professionali e più amministrativi leone allora mercurio-marte in se stile caratterizzano le atmosfere generali per il leone in questo momento la vostra stabilità o il vostro orgoglio possono vacillare un po' durante la settimana che stiamo analizzando anche se giove sicuramente vi supporterà ma è una settimana comunque all'insegna di uno squilibrio di una qualche tensione anche se c'è questo supporto di giove che può tradursi anche per esempio in momenti di fatica una fatica fisica mentale che vi renderanno meno disponibili verso gli altri probabilmente può essere il carico lavorativo del periodo o pensieri sugli ultimi tempi della vostra vita tutte queste cose possono generare in questo momento un certo peso una certa fatica e la luna di fine settimana in quadratura vi chiede proprio una discontinuità cioè una luna che vi dovrebbe spingere a staccare la spina da tutte le cose dalle responsabilità da tutto ciò che pesa per rifugiarsi o scappare addirittura in un luogo che vi piace dove state a vostro agio dove potete staccare da certi pensieri in cui trascorrere diciamo così un weekend all'insegna della rigenerazione questo è il consiglio che io voglio dare al segno leone proprio per il fine settimana segno vergine la luna che apre la settimana vi rende protagonisti di questa settimana appunto ricevete un buon sossegno da mercurio che è il vostro governatore in segno amico segno del cancro renderà la settimana ricca di comunicazioni il sestile poi mercurio-marte favorisce anche le questioni affettive e della relazione rendendovi tenaci stimolati verso il partner con comunicazioni e conferme sentimentali mentre la quadratura che si genera esatta tra mercurio e giove aiuta a organizzare con maggiore lucidità le vostre scadenze di queste giornate di questa settimana il sestile poi di fine settimana che viene dalla luna promette liete giornate di amore di stabilità di conferma insomma è una settimana secondo me dove la vergine può stare tranquilla dove in qualche modo ci sono anche delle situazioni di soddisfazione e di letizia segno della bilancia amici della bilancia continuano per voi insomma le tensioni che abbiamo già affrontato anche nelle settimane passate anche se probabilmente in questa settimana avrete un maggiore controllo proprio sulle tensioni emergenti ma la luna in particolare del 6 7 8 luglio è una luna che accentuerà il ruolo di mercurio che in questo momento è in cancro quindi è in aspetto di quadratura tensioni sono previste specialmente nelle questioni professionali lavorative e se siete anche in attesa di certi risultati o di certe conferme insomma potreste dover mettere in conto la necessità di rimandare ecco qualche aspettativa qualche attesa quindi siate pazienti anche con voi stessi non pretendete subito tuttora insomma dovete diluire un po' perché ci sono degli ingranaggi un po' arrugginiti che dovete in questa settimana sistemare e sbloccare scorpione l'ingresso di marte in toro perché abbiamo anche questo ingresso che è sicuramente importante è un ingresso che apre un periodo di attività e reattività intensa nel bene o nel male dipenderà questo poi lo affronteremo man mano che affrontiamo le settimane sarete comunque in generale stimolati molto quindi c'è in voi una forza che sentite appunto marziale un bisogno di esternare di fare di proporre ecco c'è questo grande desiderio ma non possiamo eludere la luna della fine settimana 9-10 di scorpione che quindi accentua molto l'attività di marte in toro e amplifica i temperamenti collerici e belligeranti quindi che cosa c'è da questa settimana lo scorpione dovrebbe sentire dentro di sé qualcosa che cambia cioè da una modalità un po' passiva remissiva di attesa ora volete conquistare il mondo ma questa voglia che è positiva benefica può però spingervi a volte a degli eccessi ecco a fine settimana sperimenterete questi eccessi specialmente nelle questioni della relazione probabilmente o in generale nei rapporti con gli altri nella gestione insomma in generale delle cose sociali che vi circondano perché questa luna unita anche a quel marte in toro amplificherà insomma il temperamento che è poi naturale nello scorpione legato a marte quindi emergerà un lato di voi marziale che non è detto che tutti approvino segno sagittario allora amici del sagittario la luna che apre la settimana vi vede intanto concentrati sul lavoro e sulle attività in genere ci troviamo probabilmente in un periodo dove si devono concludere certi progetti in corso quindi una settimana cruciale per l'adempimento di certi obiettivi gioca un ruolo importante il vostro governatore che intrigono cioè giove sarà intrigono al vostro segno che sarà raggiunto anche da mercurio in cancro questo favorirà una capacità strategica nell'arginare tutto ciò che ostacola o che rallenta certi esiti finali insomma è possibile in questa settimana per molti di voi raggiungere dei traguardi interessanti delle conferme interessanti qui poi dipende se abbiamo una causa in corso e sono un sagittario potrei immaginare che la dinamica di questa settimana mi aiuti un po' mi dia un po' di stimoli un po' di supporto se ho un colloquio di lavoro o se devo concludere un lavoro insomma da questo cielo potrei avere dei favori dei vantaggi delle situazioni che alla fine dei conti mi rendono qualche cosa mi danno un profitto una soddisfazione finale allora cari Capricorno Mercurio vi porterà nelle prossime settimane a concentrarvi sulle dinamiche relazionali e familiari quindi anche qui la questione famiglia è accentuata in particolare nella settimana che stiamo analizzando la luna sarà in quadratura il 6-7-8 in bilancia quindi importante e dal vostro decimo campo che è quello dell'ambizione farà emergere probabilmente un vostro modo di essere determinati puntigliosi anche un po' polemici non accetterete probabilmente durante questa settimana certi compromessi o sottostare alle esigenze degli altri così per esempio nelle questioni familiari domestiche detterete un po' più legge sarete desiderosi di riorganizzare di imporre una certe decisioni nella gestione dell'economia domestica del patrimonio diciamo così condiviso potreste fare delle polemiche con il partner con i figli sulla gestione delle spese proprio quotidiane dell'economia domestica quindi una settimana molto domestica dove in qualche modo sarete concentrati nella gestione di alcune cose legate alla vostra casa possono esserci anche in casa delle situazioni in questo periodo di ristrutturazione di riorganizzazione di certe questioni abitative ci possono essere anche questioni legali in questo momento o amministrative di certe pratiche che devono essere gestite da una certa lucidità a fine settimana invece vi annuncio la luna in scorpione che alleggerisce molto quindi sabato domenica per me c'è una grande capacità del segno di alleggerirsi da certe pressioni da certe responsabilità di essere un po' più comunicativo un po' più disponibile un po' più emotivo affettivo anche con le persone che ha accanto rispetto agli altri giorni della settimana dove vi vedo diciamo così più rigorosi molto più razionali e ponderati allora acquario la settimana per voi acquario è decisamente orientata nelle questioni qui economiche in modo specifico in particolare sono possibili spese o utilizzo di risorse per far fronte a questioni personali da risolvere definitivamente quindi sono possibili delle uscite di denaro specialmente nel weekend c'è un Marte che porta anche tensione quindi l'uscita del denaro è anche dovuta all'ingresso immediato dei Marte in toro di questa luna a fine settimana in scorpione che fa diminuire le vostre risorse quindi vi fa essere un po' più diciamo così lascivi un po' più leggeri anche su certe responsabilità e ecco che ci può essere un errore una decisione presa male che vi porta a spendere su certe cose che poi vi pentirete successivamente o a non gestire correttamente certe dinamiche diciamo legate al possesso alla materialità quindi non è detto che riguardi solo il denaro può riguardare anche un atteggiamento possessivo nei riguardi degli altri quindi potreste avere un atteggiamento che risulta un po' territoriale in questa settimana di imposizione sull'altro questo può generare sicuramente delle situazioni un po' tensive ripeto specialmente nel fine settimana con questa luna in scorpione amici dei pesci anche se l'inizio della settimana potrebbe non sembrare dei migliori insomma luna in vergine invece questa settimana vi riserverà a mio giudizio grandi sorprese intanto mercurio è appena entrato in cancro quindi godetevi l'immediata energia di trigono che arriva dal cielo aumentano le connessioni con il mondo la capacità di comunicare e di relazionarsi con gli altri Marte è anche entrato in toro è un bel Marte per i pesci quindi vi è favorevole c'è a fine settimana la ciliegia sulla torta cioè una luna in trigono estremamente favorevole insomma sono in particolare le relazioni affettive in questa settimana ad essere prioritarie se siete lietamente coinvolti in una nuova relazione o in una conoscenza in corso sarà il momento decisivo per portare ad un nuovo livello il rapporto se siete single non mancano le opportunità se ovviamente vorrete di aprirsi a degli incontri interessanti stimolanti a delle avventure anche estive che però ricaricano l'anima di energia e di spirito se siete già in una relazione sarà intensa l'intesa con il partner una intesa straordinaria da non sottovalutare anche il lato economico uno dei pochi segni per questa settimana a cui posso dire che ci sono possibilità di ingressi di denaro interessanti per questo segno per il segno dei pesci quindi anche delle interessanti soddisfazioni sul lato economico bene e con questo breve approfondimento su 12 segni con questa finestra temporale io vi saluto con la finestra settimanale e come al solito vi do appuntamento per la prossima settimana quindi ci rivedremo prossimamente io vi ringrazio sempre per il vostro seguito mettete un pollice su e un mi piace iscrivetevi a questo canale se ancora non lo avete fatto attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti gli approfondimenti che questo canale fa perché non facciamo solamente oroscopi settimanali che è il momento ludico di intrattenimento di dialogo un po' così leggero facciamo anche tanti altri approfondimenti astrologici anche più tecnici quindi con la campanella voi vedrete tutti gli approfondimenti che svolgiamo con le notifiche e niente a me non rimane che ringraziarvi come al solito ci rivediamo prossimamente grazie per l'attenzione un caro saluto e abbraccio da Franz grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione